Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi, 11 febbraio, ricordiamo la Beata Vergine Maria di Lourdes. Ascoltiamo. In una grotta lungo il fiume Gave, vicino alla rupe di Massabielle, la Vergine apparve per ben 18 volte a Bernadette Subiru, una ragazza di 14 anni, gentile, cagionevole e appartenente ad una povera famiglia che abitava in un luogo umido e inospitale. La prima apparizione risale all'11 febbraio del 1858. In quella occasione Bernadette vide una figura che aveva l'aspetto di una ragazza di 16 o 17 anni, vestita di bianco, con una fascia azzurra che scendeva lungo l'abito e sulla testa un velo bianco che ricadeva fino alla fascia. Dal braccio le pendeva un grande rosario, dei grani bianchi, legati da una catenella d'oro, mentre sui piedi nudi brillavano due rose, anch'esse di oro lucente. La donna le fece cenno di avvicinarsi, Bernadette esitò, non aveva il coraggio di farlo. Poi recitarono insieme un rosario, terminato il quale l'apparizione scomparve. Le compagne e la sorella con le quali era andata alla grotta non videro e non si accorsero di nulla. Raccontò l'accaduto anche alla madre che le proibì di tornare alla grotta. Intanto la voce si spargeva e il 14 febbraio le ragazze della sua età convinsero la madre di Bernadette di darle il permesso per far ritorno alla grotta. Bernadette conservava un po' di timore, quindi andò in chiesa a prendere dell'acqua benedetta per aspergere la grotta, per paura che quelle visioni non fossero divine. Alla nuova apparizione Bernadette strasse la corona e recitarono insieme il rosario. Poi nell'apparizione del 18 febbraio la signora chiese a Bernadette di tornare alla grotta per 15 giorni consecutivi e di dire ai sacerdoti di costruire una chiesa sul luogo delle apparizioni. Bernadette fece esattamente ciò che le era stato chiesto. Il 24 e il 25 febbraio la signora invitò Bernadette a scavare con le mani sul lato sinistro della grotta dove cominciò a sgorgare dell'acqua. Il 25 marzo la signora rivelò finalmente il suo nome. Io sono l'Immacolata Concezione. Il dogma dell'Immacolata Concezione, cioè una verità della fede cattolica, era stato proclamato da appena quattro anni da Papa Pio IX con un seguito di opinioni contrastanti. Così la Vergine pose fine a questi contrasti, confermando con la sua apparizione il dogma pontificio. Il nome della signora vestita di bianco che Bernadette comunicò all'abbate Peiramal quindi tolse ogni dubbio sulla veridicità delle apparizioni e da quel momento il cammino verso il loro riconoscimento ufficiale poteva procedere speditamente, fino alla lettera pastorale firmata nel 1862 dal vescovo di Tarbè che consacrava l'Urd santuario mariano internazionale. Bernadette alla quale la signora aveva detto non vi prometto di farvi felici in questo mondo ma nell'altro morirà il 16 aprile del 1878 all'età di 33 anni. Quando si parla di Maria la madre di Dio c'è sempre una voglia anche di rimanere in silenzio semplicemente a contemplare, a ringraziare per quante maniere questa madre abbia trovato per rimanere vicina ai suoi figli e in particolare nella storia di Lourdes la ricordiamo vicina ai più sofferenti, ai malati e anche Padre Pio abbiamo saputo aveva una particolare devozione alla Madonna di Lourdes con la voglia e il desiderio di poter andare a fare questo pellegrinaggio. Ce lo racconta proprio di sua penna in una testimonianza ad una sua figlia spirituale Raffaelina Celase che insomma dice così Credo essere volere di Dio che voi vi richiate a visitare la bella Vergine di Lourdes dice Padre Pio a questa figlia spirituale Anch'io vado vagheggiando da molti anni una tal visita ma mi avvedo però che rimanga sempre un Pio desiderio Non fatevi sfuggire questa bellissima occasione che il cielo vi offre Andate, sì ve ne prego, a visitare la bianca Signora e pregatela per tutti i bisogni della Santa Chiesa e di modo speciale pregate per la povera anima mia O potessi anch'io seguirvi in tal visita, che fortuna e che insegne favore del cielo sarebbe per me ma sia fatta la volontà del Signore Allora bella la benedizione di San Pio Per questo pellegrinaggio E magari perché non approfittiamo anche noi di organizzare un piccolo pellegrinaggio proprio verso questa meta, verso l'Urd proprio per pregare ovviamente anche per noi ma anche per i bisogni della Santa Chiesa Vedete che sensibilità aveva Padre Pio Spesso quando noi facciamo pellegrinaggi andiamo e portiamo solo la zavorra dei nostri guai dai quali chiediamo di essere liberati Ma alla Chiesa, devo dire la verità non credo che in molti pensino E se poi, ecco, come Padre Pio non avremmo la possibilità di fare questo viaggio ecco, possiamo farlo nel nostro cuore Affidiamoci all'intercessione della Beata Maria di Lourdes che non mancherà di raggiungerci lei se noi ne siamo impossibilitati Santa Maria prega per noi Grazie 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 Grazie